il vostro nome per favore signore se vi volete imbarcare ho bisogno di sapere il vostro nome eccolo il maio d'ala benvenuto a bordo professore allungerete nella capina 37 maio d'ala benvenuto a bordo professore allungerete nella capina 37 maio d'ala benvenuto a bordo professore allungerete nella capina 37 maio d'ala benvenuto a bordo professore allungerete nella capina 37 Grazie a tutti. Grazie a tutti.